Bentornati a Trame Raccontate Male. Oggi vi racconto male la trama della mia opera preferita del Settecento insieme ai Nozzi di Figaro. Oggi parliamo di Don Giovanni. Don Giovanni fondamentalmente ha tre protagonisti. Il primo ovviamente è quello che dà il nome all'opera, Don Giovanni. Un uomo con un imbarazzante e al contempo invidiabile livello di testosterone che gira l'Europa a mietere vittime. In genere la specialità della casa è la lusinga o meglio ancora la promessa di matrimonio, ma Don Giovanni quando il tempo stringe non disdegna metodi più sbrigativi. Il secondo protagonista dell'opera è il buio che deve pietosamente giustificare degli scambi di persone decisamente improbabili. Il terzo protagonista dell'opera, alleato del buio, è la miopia, perché altrimenti non si spiega. Trama. Primo atto. Don Giovanni si introduce nottetempo nella camera da letto di Donna Anna, la quale lo scambia per il suo fidanzato. E già cominciamo malissimo. Quando lei si rende conto che non è il suo fidanzato, ci sarà stato un parametro di misura tra i due per cui si è accorta della differenza. Don Giovanni se la dà gambe e Donna Anna cerca di impedirgli di fuggire, aggrappandosi a lui come un cucciolo di opossum. Qui più o meno tutte le regie mettono sempre in scena una tentata violenza da parte di Don Giovanni su Donna Anna. Ma in realtà il libretto è chiarissimo. Entra Don Nanda tenendo forte pel braccio Don Giovanni. Quindi è lei che tiene lui, non lui che trattiene lei. E infatti è lei che gli abbaia contro. Non sperar se non m'uccidi che io ti lasci fuggir mai. I due si dimenano e volano parole grosse. Lei gli dà, pensate un po' dello scellerato, e lui le dà, speriamo che YouTube non mi censuri, della sconsigliata. Sì, l'avete sentito bene, sconsigliata. Finito il trupiloquio, arriva il commendatore, padre di Donna Anna, un personaggio a cui librettista non si prende la briga di dare un nome, ma semplicemente il suo status, tipo il cumenda brianzolo. Il commendatore entra sbraitando, lasciala indegno. Ma qui il librettista si è scordato che è lei che sta trattenendo lui. Quindi la frase lasciala indegno ha poco senso. Nel duello che ne segue, in 448, Don Giovanni uccide il commendatore. Donna Anna accorre al cadavere del padre con fredde alle membra, ma qualunque animo patologo vi dirà che un cadavere diventa freddo parecchie ore dopo la morte, non dopo una manciata di secondi. Vabbè, per adesso non stiamo a sottilizzare su questioni scientifiche. È un'opera. Don Ottavio, ovvero il fidanzato titolare che però al buio non reggeva il confronto, giura vendetta per la morte del commendatore. Don Giovanni, insieme al servo Leporello, vede una donna in giro e in mantenente parte all'attacco. Evidentemente però non è serata e anche stavolta gli va male. Oggi gli va male? Gli va sempre male. Perché la suddetta è Don Elvira, già da lui precedentemente sedotta e abbandonata e ora leggermente inviperita. In più Donna Elvira vive un tremendo dissidio. Da una parte vorrebbe redimere Don Giovanni e salvarlo come una croce rossina, mentre dall'altra parte gli vorrebbe strappare le palle degli occhi. Infatti qualcuno la chiama Donna Elvira. Mentre Leporello distrae Donna Elvira, Don Giovanni se la fila. Leporello svela a Donna Elvira la natura di donnaiolo di Don Giovanni. Ma perché ce n'era bisogno? Don Giovanni che ha ben 2065 conquiste sulla sua famosa lista. Una quantità di donne che ben pochi uomini possono aver visto nel corso della loro vita. Don Giovanni e Leporello si imbattono nel matrimonio fra i popolani Zerlina e Masetto e Don Giovanni che non ha alcun problema di alterige dovuta al suo status nobiliare ci prova immediatamente con Zerlina. Zerlina, che ve lo ricordo si è appena sposata con Masetto, è lì per cedere quando arriva Donna Elvira ad avvisarla del casino in cui si sta mettendo. Sopraggiungono nel frattempo Donna Anna e Don Ottavio, che conoscono già da prima Don Giovanni, e chiedono aiuto a lui per trovare l'assassino del commendatore. Donna Elvira è ancora in mezzo ai piedi e grida a tutti che Don Giovanni è un maramaldo, ma Don Giovanni riesce a cavarsela ancora con un sotterfugio. Donna Anna però finalmente riconosce nella voce di Don Giovanni la voce del suo assalitore, e quindi dell'uccisore del padre, e ricorda Don Ottavio la sua promessa di vendetta. In una festa a casa di Don Giovanni il libertino prova un approccio poco consenziente con Zerlina, ma quando tutto va a monte scarica la responsabilità sul povero Leporello e fugge via. Nel secondo atto abbiamo la riprova che nessuno dei protagonisti dell'opera evidentemente aveva dieci decimi. Don Giovanni infatti si scambia i vestiti con Leporello per tacchinare una popolana, e fin qui ci può stare. Leporello invece ha un compito ben più arduo. Travestito da Don Giovanni deve far credere a Donna Elvira di essere Don Giovanni. Ma Don Elvira naturalmente ci crede, ci crede. Ma come fai? Conosci il suo aspetto, conosci la sua voce, ci sei stata anche orizzontalmente insieme e confondi uno con l'altro. Dovresti vedere che non è Don Giovanni, no? No. Donna Elvira per metà del secondo atto è convinta che quello sia Don Giovanni. Ok, Donna Elvira è palesemente cintura nera di miopia, ma anche Masetto non scherza. Infatti Masetto incontra Don Giovanni vestito, come vi ho detto prima, da Leporello e lo scambia per Leporello. Non solo non lo riconosce, no, gli dice anche che lui e gli altri amici armati con cui si è presentato stanno cercando Don Giovanni per ucciderlo. Cioè, sta dicendo in altre parole al servo, cosa mi dà il tuo padrone che dobbiamo un attimo ammazzarlo? Cosa che farebbe precipitare qualunque servo nello stato di disoccupazione e non essendo ai tempi previsti di reddito di cittadinanza, Leporello si troverebbe da un giorno all'altro senza nessun tipo di retribuzione. Quindi sarebbe illogico che li aiutasse a uccidere la propria fonte di reddito, vi pare? Con un trucco in cui non sarebbe caduto neanche un bambino, Don Giovanni, travestito da Leporello, divide il gruppo, fa andar via gli amici armati di Masetto e resta con questi da solo. Anche Masetto armato ha una pistola e un moschetto, ma li consegna a Don Giovanni. Non chiedetemi la ragione, non ce n'è una. Cioè, lui dice una cosa del tipo, ma sei armato tu? Ah sì, ho questa pistola, ho questo moschetto e glieli dà. E nel momento in cui glieli consegna tu spettatore già sai che Masetto farà la fine di Willy Coyote. Dopodiché Don Giovanni lo gonfia di botte come una zampogna. Donna Ottavio, Donna Levira, Donna Anna, Zerlina e Masetto trovano Leporello e credendolo Don Giovanni, un altro gruppo di cecati, cercano di fargli la festa, ma Leporello si smaschera, diciamo così, e scappa via. Raggiunge quindi Don Giovanni in un accogliente cimitero, dove trovano la statua che è stata fatta al commendatore l'ucciso. Che poi mi dico, ma quando l'hanno fatta questa statua? Il commendatore è appena morto, cioè, fare una statua a funebre ci vorrà pur del tempo. Ma vabbè, nella finzione scenica su questo dettaglio temporale possiamo anche soprassedere. La statua comincia a parlare a Don Giovanni, il quale per nulla intimorito la invita a cena a casa sua. Finale, casa di Don Giovanni. Il libertino, che evidentemente non ha solo appetiti sessuali da soddisfare, gozzoviglia impunemente. Giunge Don Elvira e supplica per la centoquattresima volta a Don Giovanni di cambiare vita. Ma Don Giovanni, come avete immaginato, con queste suppliche ci ci sciacqua le pudenda. Essendo stata invitata a cena, la statua del commendatore morto si presenta a cena da Don Giovanni e attacca la solita tiritera sul pentimento. Pentiti, no non mi pento, pentiti, no non mi pento. Alla fine la statua si rompe e fa sprofondare a Don Giovanni all'inferno, dove dei diavoli lo trascinano e dove gli infliggeranno degli adeguati supplizi per aver impunemente fornicato. Oh, così impara. Arrivano tutti gli altri per arrestare Don Giovanni e Leporello spiega loro cosa è successo. La statua di un morto è venuta a cena e Don Giovanni è stato trascinato all'inferno da dei diavoli. E loro ci credono! Cioè è tutta l'opera che Don Giovanni e Leporello mentono, intrigano, mistificano e si fingono altri, ma Leporello racconta una storia assurda, perché se avessi detto che era stato rapito dagli alieni era più credibile, e gli altri ci credono. Ce ne fosse uno che entra in casa per verificare se quello che ha detto Leporello ha un minimo fondo di verità. No, non gli credono. Nel finale dell'opera Zerlino e Masetto ritornano a casa loro, Don Ottavio e Don Anna si sposeranno dopo un adeguato periodo di lutto, Don Elvira si chiude in convento, così la pianta di rompere l'anima tutti, e Leporello va all'osteria a cercare un altro padrone. Se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, oppure una statua verrà a casa vostra a cena e dei diavoli vi porteranno giù all'inferno. Ci vediamo alla prossima trama raccontata male.